In un periodo, mister, nel quale gli impegni sono tanti, le forze forse non tantissime perché gli uomini da ruotare non sono troppi, Lentella ha risposto presente con un'ottima prova e soprattutto dimostrando, dopo il pareggio del Pisa, di volerla vincere per davvero questa partita. Beh, la voleva vincere anche il Pisa, abbiamo fatto i complimenti anche agli avversari. È stata una bella partita, due squadre che volevano vincere. Asprazzi ha fatto meglio Lentella, Asprazzi ha fatto meglio il Pisa. Abbiamo vissuto una bella giornata dal punto di vista lavorativo perché quando due squadre vogliono giocare succede questo, c'è un bello spettacolo. I ragazzi sono stati bravi, hanno fatto una partita a Gagliarda, volevano passare il turno, l'hanno dimostrato. Ora bisogna raccogliere ancora qualcosa di positivo di oggi, migliorare quello che si può migliorare e preparare la partita in questi pochi giorni di Brescia, che è un altro ostacolo veramente molto difficile e molto duro. Una bella risposta, mister, anche in zona offensiva, magari pochi gol fatti in questo inizio di stagione. Un bel secondo tempo nel quale la sensazione della tribuna era che i giocatori in campo si divertissero là davanti. Ecco, questa è una bella cosa, nel senso che è la sensazione più reale che hanno avuto tutti, prima di tutti i giocatori, i calciatori. Questo deve essere il modo di interpretare il gioco del calcio. Speriamo che questo possa portare dei benefici con continuità e con rendimento. Poi vincere aiuta a vincere e quando un attaccante segna ancora più felice, in quest'ottica Mancoso, Cardoselli, Brunori, tutti a segno. Immagino che comunque ci fosse della soddisfazione anche nello spogliatoio a fine partita. Come sono stati costruiti, una bella azione sul calcio di rigore, due belle azioni poi finalizzate molto bene. Noi ci auguriamo di lavorare in questa maniera, cercando sempre di fare il pensiero nostro, cioè quello di dare il massimo e mai guardarsi indietro. Quindi in questo momento abbiamo l'obbligo assoluto di dimenticarci questa buona prestazione e preparare benissimo la partita di Brescia che sarà molto difficile. Ultima cosa, ha sempre detto che dobbiamo fare il nostro percorso, però le chiedo se a questo punto domani la guarda Torino Lecce? No, la guardo a tutte le partite. Noi se abbiamo un pregio, lasciatemelo dire, è quello di non dormire sonni tranquilli. Lavoriamo tanto, come fanno tantissimi professionisti del nostro girone, della nostra categoria e anche sopra e anche sotto. Quindi la guardiamo sicuramente non da interessati, ma per capire anche come giocano, che tipo di costanti possono avere. Ormai noi il nostro l'abbiamo fatto, noi dobbiamo guardare la nostra strada, il nostro percorso. L'abbiamo fatto oggi fare un percorso giusto anche a quelli che avevano bisogno di minutaggio, senza guardare il risultato. L'importante è che la prestazione sia stata corretta.